Paura in centro storico a Vicenza ieri sera per l'incendio che si è sviluppato nella mansarda di una palazzina in Corso Fogazzaro che è stata evacuata. L'allarma è stato lanciato verso le 22, apprensione che le fiamme spigionate al quarto piano dell'edificio nei pressi di Piazza San Lorenzo potessero propagarsi ai tetti delle abitazioni affiancate e all'intera struttura. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco intervenuti con 22 uomini, 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale e 2 mezzi di supporto. L'intervento massiccio in forza ha permesso di circoscrivere l'incendio. Le operazioni sono terminate le 3.30. Al vaglio dei pompieri e ora le cause dell'innesco. Fortunatamente non ci sono stati feriti.